Agì da solo, senza complici. Con la chiusura delle indagini, la procura di Brindisi ha cristallizzato l'accusa nei confronti dell'84enne Cosimo Caloreo, confesso dell'omicidio del fratello Settantene Antonio e della di lui moglie Caterina Martucci, 69 anni, ammazzati a colpi di fucile all'interno della loro abitazione nelle campagne di Serranova lo scorso 28 febbraio. L'anziano, che si trova ai domiciliari da agosto, dopo mesi trascorsi in carcere, è l'unico indagato della mattanza, arrestato dopo il sequestro dell'arma. Le consulenze dei periti hanno confermato la versione dei fatti, fornita dopo l'arresto del presunto killer, che nel futuro processo dovrà rispondere di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di parentela con il fratello. La procura, pubblico ministero Francesco Carluccio, nel ricostruire la dinamica dagli spari agli spostamenti fino ai tentativi di depistaggio alle indagini dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, ha individuato anche il movente, ovvero vecchi dissidi legati ad una eredità. Per Calò, che aggira solo, senza complici, si prospetta ora il processo in corte d'assise.